Ce l'avete chiesto in tantissimi, quindi finalmente lo facciamo Morità parco giochi, Steph vs Fere, chi costruisce la casa migliore Quindi la casa di Steph vs la casa di Fere, sei pronta? Sì Sette minuti ti bastano? Sì Non sei mai convinta, cara? Dieci No, sette Allora, io voglio questo spiazzo, va a te Quale? Qua, proprio di fronte alla stradina, la mia casa inizierà qui Ok Ok Sai cosa faccio? Io la faccio in collina Io non so bene Qua Come la voglio Carina Cioè la farei di legno, la farei di mattone, è già deciso? Non l'ho molto deciso, no? Sono particolarmente indeciso, devo essere sincero Però qualche idea diciamo che un po' ce l'ho Ok? Ok Allora, si parte quindi? Sì 3, 2, 1, via Ok Ok Allora, facciamo Io potrei fare, per fare qualcosa di diverso di sicuro Potrei fare magari una roba del genere Ah, facciamo la base così in mattoni, che mi piace un botto Ok Subito le strategie per entrambi E poi Eh, perché per forza poi devo fare una cosa che sia un po' sopra il terreno Perché non è mai tutto Lo so Ah, ovviamente Consolini Deciderete voi Chi fa la cosa più bella Io Quindi votate nel sondaggio che ci sarà Fate da votando me E decidete che è vinta Ferre non puoi richiedere il voto ancora prima di iniziare? Certo che posso No, non puoi Ho appena fatto quindi Non puoi Allora Ignoratela Non voglio lasciare Ecco, non volevo lasciare nessuno Spaziettino Ok All'incirca questa è la grandezza che voglio Ok Perfetto Sì Però ovviamente qua bisognerà fare così Perché va sempre in questo modo Va sempre in questo modo purtroppo Passato un minuto Ne abbiamo altri sei Non so se mi basteranno i materiali che ho raccolto Spero di sì Eh, anche io Spero di sì Mi sa che faccio le pareti però in legno La base di mattone Le pareti in legno Ok E poi il tetto sempre di mattone Opla Opla Ok Opla E qui c'è Un grasso giusto Ok E questa all'incirca È l'idea Poi Vediamo un pochettino Poi facciamo Che casino In casa si entra Mi sa Facciamo tipo da qua E facciamo così Ok No, questo non mi piace Poi Questo non possiamo farlo Facciamo Ok Ok, così E poi Cavolo che difficile È davvero difficile Questo via dalle scatole Ok, questo così E poi qua Dai, fammelo fare qua Agganciato però Ok Uffa E secondo me qua Eh Facciamo così Perfetto E da qui si entra Ma davvero non me lo fai fare Ma che tristezza Mmm Poi pensavo Una zona del genere Fantasia proprio Ve lo dico Qua si va davvero Qua si va davvero a caldo Qua c'è l'ingresso Quindi Opla Pam Ok E praticamente Si fa una roba del genere Così Così E così Ok Ok Cavolo C'è difficile Mi sto viso incasinando Ah, qui facciamo così Io sono preoccupatissimo Ok E qui voglio fare così Ok 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 Poi Ah, è difficilissimo Voglio provare a fare delle stanze decenti Ma non mi sto uscendo niente di bello Qua Secondo me Noi potremmo fare La classica Ta 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 Ah, qua facciamo così E facciamo E qui Mettere Così Una zona Che si entra qui Poi qui c'è una porta Eh Qui me lo chiudi Qui c'è un'altra porticina Che difficile sta roba Lo so E poi Ok Cavolo Ma qui ne mi fa fare davvero nulla Ok Non so come andrà a finire Non lo so ne chi Non ne ho idea Una roba del genere Beh Not bad Poi Ok E poi Mi servono altri mattoni Cavolo Qui lo voglio fare Posso mettere No Così Ok Qui poi voglio farci Finestra Allora Finestra Magari potrei fare Questo così Ho un'idea È difficilissima sta roba Lo so cara Lo so Cara Ok Ok Mentre però poi qua Torniamo Su questo Qui io potrei fare Una roba Tipo Peccato che non si può fare L'arredamento Così Ok Questo così Qua facciamo una bella finestra Qua lasciamolo così Ok Secondo piano Così Allora Eh no Tipo così Sì qua legno Ok Ah è giusto Sì Come sta andando Bene Ok Molto bene Ok A te Bene sì dai Cioè sono molto soddisfatto Come? Voglio fare così Facendo una roba figa Ok Allora 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 Devo pensare Devo pensare Qui porta Ok Qui Perfetto Adesso Qua devo fare così Qua devo fare così Qua devo fare così Qua Devo Ah No 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 Calmi tutti Se facessi una roba del genere Che difficile Non ne posso più Allora Poi qui voglio fare così Ah mi sto incasinando Allora così e così Perfetto 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 Qui finestra Qui finestra No Qui finestra Quanto abbiamo ancora? Eh Siamo a sei minuti Wow Quindi teoricamente è molto poco Ok Ma io ho quasi finito Guarda ti dirò Cioè sinceramente Mi manca Mi manca il tetto Devo finire di fare il soffitto Ok Non so come fare Perché sarà difficilissimo Andare in alto Già è quello che Un po' sto avendo problemi Anche io su quello Allora Quindi a questo punto Avevamo detto Facciamo Tipo Ta 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 E tipo Qui Se io metto Questo Ok Il tetto Ma come lo faccio Il tetto Steph Ok Dovrebbe essere Tipo Ok Ce l'ho fatta Poi qua facciamo Lo faccio Ok Ma tu come hai fatto il tetto? Come sei riuscito a farlo? Eh Sto andato tutto su Ho fatto un casino Ma li hai fatti tutte a piramidine o cosa? Sì Tutto come di fai poi Oh cavolo Già Oh cavolo Ma che le sta a fare ste robe? No mi è partita una piramide nel posto sbagliato Non è stato semplice cara Non è stato per niente semplice Allora modifica Comunque di qui si va qui Che c'è tutto il bel posto Eh E va bene Qui Adesso poi risulta così No ok Non sta andando bene Steph aiutami E che c'è? Io non so fare le modifiche delle piramidi Speri non faccio in tempo Mi si spacca Mi si spacca Eh mi dispiace Quello è un problemone Allora Porca miseria Come la faccio Non sapevo Avessi tutti questi problemi Abbastanza Così Ok Ok Questo va bene Questo va bene Ci sono ci sono Ma tu hai arredato in casa? No ovviamente Come arredo? No infatti neanche io Cioè non ci ho perso troppo tempo Perché Quello che è l'arredamento Purtroppo E quindi non ci ho perso Allora Steph Mi devi dare due minuti bonus Per il suo affitto Te lo giuro Allora Tutti zitti Ce la posso fare Ce la sto facendo Ok Devo solo trovare le combinazioni giuste Quindi questo si gira di così Esatto Poi questo Questo deve stare di così Ok sto capendo Di così Perfetto Poi Maledetto te che mi ha fatto fare sta casa Guarda E quello poi come lo modifico però Oddio Oh cavolo Ok Allora Vediamoci Potrei Fare una roba del genere Aiuto Allora no Qui lo devo lasciare così È uscita una schifezza alla fine Non fa Non fa Non fa È uscita Io ho quasi finito Come sei messo? Io ho finito Sto facendo dettagli Perché ti sto aspettando A sto punto Cerco di migliorarmela anche io La casa Mentre ti aspetto Non è che sto facendo Devo Ti stai facendo il tetto Sì Però Più che altro Adesso sto distruggendo le cose Che ho messo in più Che non ci devono stare Qui devo riparare Che la mia casa non deve stare rotta E poi volevo fare Un'ultimissima giuntina Posso? Piccola Tipo? Boh Piccolissima Ok Allora Però Mi rovina sempre tutto il gioco Vabbè Lo faccio solo la partita Volevo fare il recintino fuori Per renderla più carina Ma purtroppo È così Vabbè Non fa Basta Basta Quindi è finito? Sì Volevo fare tipo Ah no Mi è venuto in mente Aspetta Dai Tito Lo faccio sospeso in aria Ti informo che volevamo Sette minuti E siamo a dieci Te l'ho detto Che più o meno dovevano essere una decina Vabbè Qui non si vede Fatto? Sì vieni Interrompo Vengo a vedere casa tua Allora C'è già la porta aperta Guarda Quindi questo è il suo recintino Finestrine Blah 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 Porta aperta Si entra da qui Ok Un po' di stanze Un po' di muri Un po' di finestre Ah l'hai deciso Sì Da qui si sale Cavolo c'è un pavimento rotto Non poteva Sotto scomodo salire Perché non ha fatto la scala a chiocciola Non si sa bene perché Perché mi piaceva così E poi si è dimenticata di fare anche un sottosofitto Che secondo me ci sarebbe stato Perché? Va bene Ti mi hai fatto fatto di fretta Non rompere Ok venga da me Faccio il terrazzo Non hai visto il terrazzo? Il terrazzo non l'ho visto Scusami un attimo Vieni a vedere il terrazzo Era la parte più bella Dov'è? Maledetto Qua Ok 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 Faccio schifo a costruire Ciao Allora La mia vorrei farti vedere dall'alto Vieni qua Dove sono io? Sì ma hai fatto una magione Stessa quantità di tempo eh Eh vabbè Avevi belle idee chiare Guarda È bella la vedere Sì hai fatto Dai porti i catti sotto Ma fai schifo Cioè dovevamo fare una casetta Non una villa Steph È quello che si riesce a fare in tempo Ma io ho fatto una villa Vabbè Allora seguimi Lasciamo perdere A parte che devo coprire il soffitto E poi la viene a rivedere Mi hai fatto fatto tutto di fretta E qui c'è Però che non hai messo finestra Una situazione balconcino Ok E qua porticati Visto che tu hai criticato No vabbè ma questa è una parte dove non si vive eh È soltanto una cosa estetica da fuori Perché è una di quelle case architettoniche Però qua non li hai continuati porticati No perché ci stavano male lì Si entra da qui Quindi questa qua è la vera entrata Ok 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 Si entra così Open space Open space Come puoi vedere qua c'è un giardino Venga a vedere un po' che bello Non è un giardino Sì sì vede Questo è un bellissimo giardino Ma ti entra l'acqua in casa Non è neanche le porte Cioè qui ti entra tutto in casa Scala a chiocciola Qua abbiamo un bellissimo terrazzo Ok il terrazzo è carino E qua infine il soffitto Ma non hai fatto il secondo piano Cioè si installa solo per il terrazzo Esatto perché è un open space Molto più grande del tuo Mi sembrava così bella Non hai fatto niente dentro Cioè io per se devo fare le stanze Le scale Il soffitto Ho fatto il terrazzino Cioè tu hai una scala che porta un terrazzo Cioè da fuori è bellissima Non ti dico nulla Da fuori è davvero bella E mi è piaciuta l'idea Ma è neanche Ma Stef Cioè se vuoi farlo per spesso Al piano di sopra Mi devi fare i soppalchi Come minimo E quello è un soppalchino No Stef È un terrazzo all'aperto E quando ti piove Ti entra pure l'acqua a casa Ti entra l'acqua in casa Aspetta Come la fai la scala a chiocciola Brutto male Te lo spiego No ho capito No No devi riacchiappare Aspetta Esatto Vai Bella Allora qui aspetta No lì devi proprio toglierlo Quel pavimento Ah non posso Aspetta Bella È qua ha capito Eh ma come ci arrivo No tutto Fai entrare tipo da qua Ah dici Ma non si può entrare dal terrazzo Altrimenti cambi l'ordine di questo Aspetta Allora teoricamente si fa Non si può entrare dal Aspetta Sono in mezzo Non si può entrare dal terrazzo Però è una casa un po' brutta Allora Così E così Per fare dove vieni tu È brutto È tutto storto Vabbè Era meglio come l'avevo fatto Guarda non puoi infine Anche tra il piano di sopra Vedi mi rovina le case Mi rovina le case Non lasciala così È perché sono più difficile Vedi fare la parte di sopra Vabbè Comunque sfida finita Nel sondaggio è finita Nel sondaggio è decidere chi ha vinto Secondo me è davvero un bellissimo tetto Per di più Ma lasciamo perdere Ma hai fatto solo il tetto E quella Aspetta Io guarda Tappo qua Così è perfetta Tappo qua Tappo qua Ho fatto il sondaggio Qua sotto come sempre ci sono altri video Nella casa di Steph Ricordatevi che se ci andate a vivere Vi piove dentro casa Ignorate la signorina Su Fortnite raga non piove Quindi l'unico problema è se c'è la tempesta Ma se c'è la tempesta è già un altro problema Perché se è prendo vita Iscrivetevi al canale Campanellino E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao